Siamo a un nuovo appuntamento con gli incontri con i candidati sindaco della città di Bologna, 6 domande sulla cultura, 6 domande da parte di giornalisti e 6 domande da parte di cittadini, in realtà sono 12 domande, che stiamo facendo ai candidati sindaco e oggi abbiamo con noi Lucia Borgonzoni, che è candidata per il centro-destra e in particolare è un esponente da Lega Nord e mi fa particolarmente piacere, tanto che sia con noi, perché è l'unica candidata in mezzo a tanti candidati uomini. Quindi iniziamo subito con le domande che ci sono state mandate e che appunto riguardano la politica culturale, i progetti di politica culturale di Lucia Borgonzoni, se diventerà appunto sindaco di Bologna. Inizio con i giornalisti, Stefano Zanerini, di cui Bologna TV. Da una parte la cultura rappresenta, soprattutto per i giovani, uno strumento per far nascere e favorire una consapevolezza di partecipazione e di fusione. D'altra parte, la cultura può anche essere un'efficace volano dal punto di vista turistico-commerciale. Qual è la sua idea di cultura in relazione a questi due poli? Cultura come partecipazione e cultura come volano turistico-commerciale? Prima di tutto ringrazio per l'invito, perché spesso quando si parla di centro-destra, in particolare di Lega, si parla solamente della sicurezza, di questioni legate al degrado e poco di altre cose che invece, devo dire la verità, in questi anni abbiamo sviscerato i 65 anni in comune con tanti ordini del giorno, tante richieste spesso cassate dall'amministrazione che però erano proprio nell'ambito culturale, fatto l'academia di belle arti, non un pittore, per cui è una cosa che io ritengo di tutto quello che è il mondo artistico-culturale che aveva sviluppato il più possibile, uno perché, anche per quanto riguarda i giovani, in questa domanda che mi hai fatto, infatti venuto fuori come richiesta e necessità dei territori, richiesta e necessità per sviluppare una città, perché io devo dire ho avuto una grande insegnante alle superiori che mi portava al teatro, io ho scoperto il teatro così, era una persona che mi piaceva quasi per niente leggere fino a quel momento, errori frattari, mi sembravano cose noiose, tempo sprecato, mi ha fatto venire una grande passione per la lettura, per tutto quello che era il mondo del teatro, all'inizio con anche spettacoli abbastanza semplici, Agatha Christie sono andata e iniziata a vedere insieme a Ray, però questo ci fa capire come sia indispensabile avere dei buoni maestri, delle persone che fin dalla scuola ci insegnino ad amare tutto quello che è bello attorno a noi, per cui tutto quello che è artistico, sia dal punto di vista dell'arte quella che può essere che ci circonda ogni giorno, l'arte che abbiamo sotto i nostri portici, la nostra città è arte, ce l'ha aperta, noi abbiamo delle città più belle del mondo, se sentiamo i turisti quando vengono, le persone straniere quando vengono e vengono a Bologna, ne rimangono estasiate, estasiate di cose che noi onestamente neanche più ci facciamo caso, noi ci siamo un po' imbruttiti, questa è una cosa molto triste si sono imbruttiti anche i ragazzi, ci siamo abituati a vedere i nostri nuovi sporchi e imbrattati perché incontreranno appunto le persone che scrivono ciao ci vediamo più tardi, ciao ti voglio bene sui muri della città senza capire il valore che questi muri hanno e ritengo che prima di tutto un comune debba fare una serie di progetti, con i giovani una serie di progetti che devono partire anche da quelle periferie, infatti una cosa che mi ha colpito molto è che la struttura dove siamo con l'alunno è questo, per cui mi ha colpa, lo dico subito, nasce da una piscina sportiva vincevi di là alla sala e io uno dei punti del programma è proprio arte, cultura e sport per l'integrazione contro il budismo, perché penso che sia lo sport che l'arte possa creare una coscienza nei giovani che gli aiuti a migliorare le stesse e a dargli l'idea di poter avere un futuro, perché molti giovani, il problema di molti giovani ora è quello che gli manca hanno una prospettiva per il futuro, per cui magari entrano in quelli che definiamo i brutti giri, possono entrare in brutte compagnie che non sono quelle del ragazzo che la sera vanno una volta a bere fuori, perché per me è anche stupido quelli che hanno l'otto con la richiesta di chiudere qualunque tipo di locale e pretendere che i ragazzi studino dalla mattina alla sera, questo per parlare dei ragazzi universitari, però bisogna dare delle traspettive che sia un attimo di respiro più ampio, bisogna avere un rapporto con l'università maggiore, noi, l'ho conosciuto ieri, il nuovo elettore, sono già andata a parlare due volte, mi sembra una persona giovane, molto aperta e risposta verso la città e per rinunciare la città, cosa che non era accaduta fino ad oggi, perché l'università era diventata quasi un corpo strano all'interno di Bologna, per cui Bologna non riusciva a di dare un'università, l'università non dava quasi più niente a Bologna, saltavano agli occhi di tutti solamente i 40-50 ragazzotti che hanno preso l'università e la nostra città come un punto dove spiegare qualche strano loro disagio, probabilmente sociale, non tutti di 80 mila studenti invece che vengono qua, di cui il 54%, di cui il 56% addirittura fuori regione, che vengono qua per trovare quella città che penso i loro genitori e i loro amici e i loro genitori devono avere contatto come una splendida città, ripresa tutta la zona universitaria, così non va bene neanche quella delle persone che hanno esercizi commerciali in Vietreboni per rinunciare il teatro, bisogna assolutamente riprendere tutta quella zona, per cui ritengo che sia fondamentale per chi vuole fare il sindaco, capire tutto il patrimonio e valorizzare il patrimonio che abbiamo, è una cosa fondamentale, se uno non pensa che la cultura e l'arte siano fondamentali, perché non ci sono tante città, ma soprattutto nella città come la nostra, che veramente tanto sono, io lo vedo anche qua in Italia, tante città che si devono inventare storie per cercare di valorizzarle, si devono inventare di tutto e riescono magari a farlo sul niente, creare un business e creare un rilancio per tutta l'economia, noi abbiamo forse così tanto e ce ne siamo dimenticati che non stiamo facendo niente, sta facendo morire anche questo peccato. Passiamo alla seconda domanda che è di Luciana Cavina del Corriere di Bologna. Lei crede che la cultura possa essere un modo di combattere il degrado? In che modo? Quali istituzioni sarebbero sue alleate? In parte ha risposto. Sì, sicuramente il degrado si parte con la cultura. Io ora dico una cosa, che spesso si, proprio parlando di degrado, cultura e come tenere una città, possono sembrare sveglate oppure quando le dico, leggono solamente la parte della interventista, la rivista, la teoria della finestra rotta, che è stata usata da Rulfo Giuliani per riprendere in grossa, fatta proprio da cultura e violenza. Cioè ti dico, se tu vivi in un posto abbandonato, e ci sono studi che sono stati fatti per chi conosce tutta la teoria, quello di un'auto abbandonata in due quartieri, un quartiere tenuto bene, un quartiere tenuto male, e ti spiega come in una zona degradata e abbandonata il crimine aumenti sempre di più e da quello che può essere una finestra rotta, che può sembrare una sciocchezza, una cosa banale, si può arrivare ai grandi primi. Per cui vanno riprese tutte le nostre periferie, con dei progetti fatti proprio per i ragazzi e insegnarli quello della cultura. Però anche la cultura dell'ordine e di cercare di tenere il più pulito possibile, il più ordinato possibile. L'ordine, ad esempio, anche per questo è l'arte dei giardini, come diceva te, l'arte dei giardini cosa sarà, ma anche quello, e cercare di rendere partecipi tutti, perché non devono essere cose da lato dall'alto che arriva tanto con dei soldi, il comune decide di destinarli con un progetto, magari da alcuni amici senza parlarne con la gente, senza condividerlo con la gente, senza farglielo capire e senza usare il materiale in mano, che non vuol dire solamente la mano d'opera, ma anche le idee, perché spesso le grandi idee magari si hanno anche da quelli che vengono tutti i più semplici dei ragazzi e magari si fa capire anche loro che dentro hanno tanto e magari così lo tireranno fuori anche altre circostanze, per cui essenziale è quello che il comune lavori, oltre che poi le costituzioni e gli altri, quelli devono essere trani, non devono lavorare anche come cittadini. Brunella Torresin della Repubblica. Nel caso di una sua vittoria lei diventerebbe in quanto sindaco anche presidente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, la quale dopo l'università è la più grande impresa culturale cittadina per numero di dipendenti e volume di fatturato. Lei frequenta il Comunale? Il piano di risanamento prevede la riduzione del numero dei dipendenti e una trentina di posti di lavoro sono a rischio. Qual è la sua opinione al riguardo? Salvare i posti di lavoro ma sacrificare altre voci? Quali? Oppure sacrificare i posti di lavoro ma salvare altre voci? Quali? Il Comunale, onestamente, è da tantissimo tempo che non ci vado dentro la volta che sono stata al Teatro Rolpe, le celebrazioni che sono andato a vedere partita, è il Teatro Rolpe. Fondamentale è quello di salvaguardare i posti di lavoro. Non si può pensare, ancora più, in un momento di crisi come quello che sta vivendo non tanto Bologna, tutta l'Italia, di mandare delle persone andate proprio con via. Noi siamo in questa situazione per scelte scelerate, fatte nei danni quando c'era Vendatutino dove ci sono state scenografie prese a posti disorbitanti, abbandonate poi nelle cantine per cui neanche riutilizzate o fatto girare per il mondo per riavere dei ritorni. per cui ora le questioni che c'erano, le questioni che va in parico, ci sono i buchi pregressi. Quello che dovrebbe fare il Teatro è tutta una strategia di rilancio assieme all'equilismo. prima di tutto va rilanciata a Piazza Verdi, perché finché abbiamo una Piazza Verdi, come ora te lo dici una persona che è assoluta all'università in Piazza Verdi, mi sono seduta anch'io, ho bevuto anch'io la birra, quindi la mia ammettina la prendevo e la buttavo via perché mi ha insegnato la mamma. Non so, le persone che ci stanno ora ti hanno insegnato a comportarsi così. C'è un bilancio essenziale che va fatto insieme all'università. Sempre quando ho parlato col rettore, ora non so se oggi o in questi giorni arrivano il principe è la principessa del Giappone, mi ha detto non so, vengono qua, vedono Piazza Verdi così. È l'unico posto che vede negli azamboni, Piazza Verdi, quella zona, è tutta in seguito che può essere ciumi di rilancio per loro andare. In Giappone direi bellissima Bologna, invece di vedere Piazza Maggiore o altre zone che comunque sono più curate, perché un po' la strategia di questo mondo è stato curare poche zone, e chiaramente il cuore è saltato in parte anche quella, è stato curare poche zone e mettere la polvere sotto il tappeto e negli altri, però la polvere ormai si sta spandendo per tutta la città. E una serie di iniziative di marketing per vendere dei pacchetti su Bologna, in cui mettere all'interno anche i teatri, perché c'è tutto un turismo legato anche ai teatri, che però va messo al circuito, se vogliamo che vengano rilanciati, ma ai teatri, non c'è quelli privati tutti, vanno fatti come dell'altra cosa che abbiamo con, dei pacchetti turistici. Io all'Expo avevo chiesto in comune se avevamo fatto qualcosa per rilanciare anche la nostra città dentro l'Expo, perché c'è stato un grandissimo errore di fare il campione, cioè i lavori che hanno bloccato le nostre strade principali in quel momento. però chiedevo, il Stato ha fatto qualcosa altro, perché li rispondono gli altri stati quando vengono fatti. Non è che li verificio solamente la città, neanche la città attorno, addirittura gli stati attorno. Per cui se noi non pensiamo di fare un marketing di rilancio del teatro comunale, non riusciremo mai a salvarlo come non è salvato, per cui ci vuole il rilancio della piazza, non è possibile, però le persone assolutamente non vanno, non andate a casa, non si può pensare. Riuscite poi a sbagliare di qualcuno. Il pubblico che fa scelta e impagliare prima di andare a pagare, cosa è totale però, raramente. Claudio Cumani, Ernesto del Cardino. Ha dichiarato di aver lavorato come barista molto tempo fa all'INC, Storico Centro Sociale Cittadino. Che opinione ha oggi dei centri sociali e soprattutto a quali politiche culturali giovanili pensa, visto che la popolazione di Bologna è in misura considerevole formata da studenti universitari fuori sede? Sì, ho lavorato all'INC, questo ormai è venuto già cinque anni fa, ogni tanto risalta fuori. Non so se perché avevo vent'anni, però onestamente io l'INC quando l'ho vissuto, anche l'INC anche ora è una realtà un pochino diversa magari dei restanti centri sociali e cittadini, non era un posto dove c'era un gran fermento culturale. Ora, i lutoid sono passati da lì, che costruivano lì nel loro stato, che c'era anche una rotonda qua in città, c'era un fermento sulla musica, la sperimentazione della nuova musica, e le radio che trattivatevano da lì, erano radio che erano un pochino più lontane al territorio. Quello che volevo dire, io quando giravo, non sapevano tutti che ero della Lega. Nessuno ha mai avuto problemi perché ero della Lega. Io non ricordo nessuna di queste persone che mi abbia detto agli anni accenti, infatti non eravamo la città bloccata ogni due giorni, o manifestazioni dove c'era qualcuno che l'hanno di Sant'Iedrine addosso alle forze dell'ordine. Nessuno me l'ha mai chiesto una cosa del genere, mi hai mai detto, mi hai mai fatto questo. Erano posti dove si discuteva, c'era quell'arte magari che ha una giovanile, o l'arte in cui la città come Bologna è una città un pochino legata al passato, non era abituatissima e questo è una cosa dove nessuno dice ci sono spazi e hanno bisogno i giovani di spazi per potersi esprimere, sperimentare una cosa. Se i giovani prendono degli spazi per fare meno business, oppure per concorrenza sreale agli altri, oppure per organizzarsi, per andare a mettere a ferro a fuoco la città, questo non può esistere. Ma non penso neanche, serva niente ai ragazzi che vengono messi dentro, per cui che il Comune togliere queste cose non è accettabile. Siamo alla quinta domanda di Leonardo Onesti dell'Ansa. Ritiene opportuno che associazioni che svolgono un lavoro culturale seguito e riconosciuto godano della concessione incomodato gratuito o a canoni fortemente ridotti di immobili di proprietà comunale? E quindi, se diventerà sindaco, confermerà al netto dei casi specifici il principio che sta dietro le tante convenzioni attive anche a scapito delle casse comunali, oppure preferirà percorrere altre strade che assicurino maggiori entrate per il bilancio del Comune di Bologna? Partendo dal presupposto che tutto deve passare da bando, altrimenti entra e subentra una soggettività che può vedere anche involontariamente qualcuno che fa dei progetti buoni che magari a un giudizio personale non piacciono, per cui se dovessi entrare il mio giudizio magari li do a te e non a lui non su un punto di vista totalmente oggettivo, però cerca che fa qualcosa per la città deve avere degli spazi a prezzi intaglierati, degli spazi, si può arrivare anche a avere spazi gratuiti, però deve essere qualcosa dell'alente per la città per il momento in cui come uno su tutti aveva fatto sempre sul tasso, Allora, se l'Arcidei dice che c'è bisogno di uno spazio per fare il telefono per i ragazzi che subiscono, avevano dei problemi, a integrarsi dentro l'università, è una cosa, allora quella. Poi sono una scelta ai comuni di dire dopo lo spazio a loro come lo posso dare al telefono duro, come... Per una biscoteca, come ho detto prima, perché hanno sotto del cazzo, allora una biscoteca che fa concorrenza in tre alle altre biscoteche che pagano un affitto, come questo perché hanno dei pappagalli. Allora, fa un bando e pago come tutti gli altri. Poi, che basano tutte le altre, tutte le realtà, io ad esempio uno dei progetti che avevo chiesto che il comune facesse è una serie di negozi, una serie di negozi in area che sono tra di voi più depresse e nessun nessuno, mi prenderebbe mai perché sono isolate, sono in zone non attivibili. Avevo chiesto di fare delle zone franiche, urbane, dove fare all'interno di questi, per cui detassate totalmente, dei temporali scorti, però dove i ragazzi potessero presentare i loro progetti da collegare a quello che sono anche le aziende, le imprese del territorio e non solo. per cui creare, per dire, un anno la zona franiche urbana è quella quella di rilanci, così rilanci sia il patrimonio del comune, sia rilanci di più prezzo di tutti i negozi, tutte le abitazioni che sono lì, sia dare spazio ai giovani per poter esprimersi, poter prendere, tra virgolette, il loro progetto che può essere un'idea, a magari un momento privato e un uomo. E passiamo alla domanda 6 che è stata anticipata di Davide Turrini di FattoQuotidiano.it Lo stereotipo a livello culturale del leghista risulta fin dai primi anni 90 una sorta di troglodita volgare e rosso che adora solo i cinepanettoni una volta all'anno a Natale, non va mai a teatro, in una libreria o in un museo e al massimo ascolta qualche strofa di aria di provincia preferibilmente in dialetto. Come aggira lei questo stereotipo? Come vive i suoi consumi culturali nella città di Bologna? Nella fattispecie quali sono stati gli ultimi tre oggetti culturali consumati che ha apprezzato e perché? Per ultimo, al contrario, qual è invece l'ultimo oggetto culturale che non le è piaciuto e perché? Al giornalista bisogna dire che il problema non è che sono i leghisti Rosea è che dei giornali si divertono anche di oggi, dove lui ne ha un esempio primo perché hanno detto solamente che il leghista è una persona lontana della cultura ma ha studiato sempre volte le sue repressioni personali. Allora, gli oggetti di quelli che definisce lui culturali che gli ultimi sono stati, come ho detto, un concerto di Battiato la musica è tut'arte però diciamo che la sua è poesia allo stato duro per me. Poi ho visto la nostra viola e uno dei miei tutori preferiti infatti sono molto felice che comunque sia arrivato in città e la mostra è quella sui Egizi. Quello invece che non ho apprezzato non apprezzo tutti i giorni è quello che vedo dell'arte in Bologna nel senso come è ridotta e come non è curata questa amministrazione. Questo è l'oggetto culturale che non apprezzo vedere e che fortunatamente devo vedere più o meno ogni giorno perché ci sono piccole realtà che cercano in tutti i modi come qua sono arrivato al composto bellissimo e cercano di sopravviere in mezzo a tanto bruttume che però aiutano principalmente per me alla gestione pubblica nella cultura dei ragazzi e nella gestione pubblica perché ha abbandonato che non valorizza o permette che non venga valorizzato ma trattato tutto il suo patrimonio. Bene, passiamo alle domande dei cittadini e Marcello Sanna il suo slogan è RIVOGLIO BOLOGNA che a una prima decodifica significherebbe che rivolgono a Bologna che evidentemente adesso non c'è più. Ma quale Bologna rivolgrebbe? Quella di Cofferati o quella di Zangheri? Quella di Vitali o forse quella di Guazzaloga? La cultura rientra in questo rivolgo oppure ne è esente? Se sì, quale tipo di cultura o di politica culturale che c'era prima e non c'è più rivolrebbe? Se no, ritiene che dal punto di vista culturale Bologna sia soddisfacente? RIVOGLIO BOLOGNA Sì, RIVOGLIO BOLOGNA è più un concetto di un momento storico. RIVOGLIO la città che le persone penso che hanno dal metà i 40 anni in su hanno vissuto. Cioè quella città dove si era sereno a girare, molto legato un rivolgo alla sicurezza a quello che noi eravamo abituati a fare. cioè io ero abituato a stare in una città dove mi sentivo tranquilla dove girare per strada era come ora la stessa situazione che posso provare a girare in casa nel senso era appunto una grande casa a Bologna io ricorre quello era una città molto più viva dal punto di vista culturale ma dei locali e qualunque cosa cioè Bologna è la città di Assanotte della gente che sta fuori tutta la notte cosa che ora è difficilissimo da fare si sono creati contedriti anche fra i cittadini e quello che può essere il mondo culturale, il mondo notturno che non c'era da prima c'è stata una rottura che va assolutamente risanata e ricucita. Sicuramente Bologna nel rivolgo ci sta parzialmente la rottura perché non è messa fuori a rotata come quella che si è una rotata. Per cui dire il rivolgo della cultura voglio qualcosa di nuovo voglio una cultura portata a quello che meriterebbe la nostra città il rivolgo sarebbe sbagliato perché non è mai stata valorizzata quando invece sarebbe necessario farlo La domanda è di Alberto Bertocchi Bologna è una città ad alta presenza di stranieri una bella opportunità per una città che naturalmente ambisce ha una rilevanza internazionale ciò nonostante ultimamente si dà più frequentemente risalto ad aspetti negativi connessi all'immigrazione il suo programma prevede strategie di valorizzazione della dimensione multiculturale che ormai caratterizza Bologna? La cultura è cultura per cui io non è che riesco dividerla su multiculturale per quel conto è fare progetti di Porto qua Teatro di Israele allora lo faccio conoscere o Iran o Turisia dire multiculturale per me la cultura Bologna va rilanciata poi se fare il non lo so il rilanciano e decidiamo di fare uno spettacolo di danza per tutte le vie di Bologna non è che deva essere multiculturale altre cose e le persone che arrivano un progetto migliore il progetto migliore vince se poi è fatto da persone che vengono dalla nazione inversa da persone che sono della stessa nazione o quant'altro per me non conta sarebbe sciocco cercare di legare in modo culturale in modo culturale perché comunque nell'alto per me c'è già una fusion che comunque coesiste e esiste da tantissimi anni cioè penso che l'alto deve essere un pochino prima magari della storia che leggiamo a tutti noi per cui c'è già dentro perché è una fusione di varie culture e più o meno in degli indie alla musica a tutti non c'è più questa divisione quello che degli stranieri si parla principalmente delle cose negative vabbè quello ma perché si parla di criminalità allora si fa tutto un altro mondo gli stranieri c'è tantissimi qua a lavoro sono bravissime persone ovviamente fanno meno notizia ma quello facciamo meno notizia da tutti noi io vedo anche i politici per bene fanno molto meno notizia di quelli invece che sono dei delinquenti per cui essere per bene stesso non fa notizia anche se in realtà la grande notizia ormai naturalmente la terza domanda è di Silvia Napoli qual è il ruolo delle fondazioni in questa città? quanto e come sono in sintonia con le pubbliche istituzioni? è vero che svolgono una programmazione culturale però dopo loro come sovente si è provato a considerare l'assessore uscente? le fondazioni sono per me fondamentali il giusto che ci sia nella nostra città è giusto che diamo dei soldi la cosa però che bisogna capire è che la fondazione non può essere solamente un posto dove andare a prendere solo le crisi è dato male tutto bisogno di soldi e gli danno i soldi poi però non ti spiego dove metto magari le metto i sceneggiature super costose che stanno in una cantina per cui con le fondazioni bisogna fare dei progetti assieme e dire ok quindi non è giusto che gli diano questi soldi però ti rendono anche partecipi di dove sono finiti cosa si è fatto di questi finanziamenti perché altrimenti non possono essere come Amaroli come non è volgarmente la vacca la mule solamente quando ce ne bisogna poi più gente mette soldi nella cultura meglio io odio sentire amministrazioni che dicono perché è privato perché la cosa migliore sarà il privato più di più tutte queste cose cioè che il privato metta dei soldi da aiutare per cercare di promuovere tutti quelli sui teatri questi musei che sono un patrimonio comunque comunale che facciamo fatica a valorizzare facendo tutta una questione museale per andare in provincia avevo chiesto che lei si maternizza per andare in provincia e venisse presa a permetterci all'interno di una serie di piccoli musei sui primari dei 15 degli ospedali dell'ospedaliera di mettere quelli piccoli che potevano essere tolti dal loro contesto perché non era un contesto storico particolare e messi tutti lì all'interno nella stessa struttura tutti questi piccoli musei poi probabilmente a qualcuno non andava bene e poi magari sarebbe cambiata tutta la situazione però il pubblico e il privato doveva convivere io ti dico però non può pensare di andare dal privato e dire non ti dico dove ho messo i soldi quando vuoi fare qualcosa un ragazzo che suonava in modo spettacolare in centro al diogo basso allora la questione che è femminile perché è femminile da 35 anni che l'amministrazione un giorno si sveglie e capisca che può dare fastidio ai cittadini cosa che sicuramente è perché abita lì ha un volume della musica che è veramente migliorumbrante però che l'amministrazione se la quarta ora decide di fare il più duro come femminile quando qua abbiamo una via indipendenza totalmente viene la dosiglia che ha mostrato il gioco delle tre caramelle noi di un povere indipendenza risulta un pochino assurdo poi che vadano gestiti d'artisti di strada con quelle vie quando si riuscose bisogna assolutamente farlo che se forse anche le sintonie di moda sentite tutto il giorno fa volumartissimo creerebbero problemi a chiunque per cui ci vuole una gestione sicuramente degli orari e tutto questo braccio di ferro con lui è un braccio di ferro è un modo strumentale che l'amministrazione ha voluto mettere in campo ritengo non giusto perché ma questo vale un po' per tutto l'amministrazione che per cinque anni ha permesso occupazioni ha permesso alle ragazze di fare qualunque cosa poi si vede una mattina e dice no 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 ovviamente dall'altra parte poi ha persone incestibili che non riesce neanche a spiegarle perché si fino al giorno prima e poi dopo è diventato no per quanto riguarda i tedeschi e i tedeschi non è sbagliato fare delle zone pedonali a Bologna non ha una cosa sbagliata però bisogna vedere come fare tu non puoi chiudere e dire anche i disabili di entrare dentro tu non puoi chiudere e non avere un mezzo che passi da queste zone per portare la gente a casa è stata fatta un'artoria accetta dall'auto ma che si le progetti dell'amministrazione si allargerà in due altre pedonalità a destra a sinistra e a indipendenza che saranno con delle auto con chiusura giù a audio del giorno diversitario sbagliatissime e temi che siano un pochino tutte volte queste iniziative come quelle dei motorini su cui ora sono tornati indietro però sarà quella di chiudere sempre i motorini per cercare di far sopravvivere in futuro futuro quando riuscirà e questo non spaventa perché è stato scelto invece di fare Italy a Bologna quanto per me tutto Italy invece l'abbiamo già nel centro cittadino per far sopravvivere una struttura per l'inizio avevano detto che sarebbero andate 10 milioni di visitatori all'aula quanto quelli dell'Ocra per cosa questo mi sembra una cosa all'interno assurdo quelle dichiarazioni per pensare che Alex Carvano le persone che vanno ogni anno all'Ocra è follia alla fine sono scelte 4 milioni di questi 4 milioni però 2 milioni dovrebbero essere per l'Emilia Romagna ovvio penso che una mezzogiorno la Piacenza la immagina la Filippo per cui per far sopravvivere il Filippo probabilmente vorranno far morire il centro storico questa è una cosa che mi preoccupa molto per cui c'è tutta la questione di abilità anche questo è il tema fondamentale proprio per far sopravvivere la nostra città storica che se no rischerebbe di essere svuotata totalmente e bisogna dire che le attività commerciali i ristoranti i locali servono tanto per cui più sono aperte con una gestione giusta del rumore e tutto più una città è sicura Livia Rastelli si è appena conclusa la call del Bando Earth per il nuovo direttore dell'Arena del Sole secondo lei che tipo di personalità dovrebbe guidare il Maggior Teatro di Bologna? crede nelle istituzioni guidate da persone del territorio o pensa sia possibile affidarsi a uno straniero? avrebbe un nome per quell'incarico? il nome anche se lo avessi non lo farei mai perché come ha letto da quello del fatto quotidiano mi avrebbe massacrato immediatamente gli metterebbero subito un marchino addosso per cui sicuramente non si può fare io penso che in generale il territorio in generale ha personaggi grandissimi per cui questo di essere esterofili a tutti i costi come se qualcuno arrivato dall'estero possa portare qualcosa di meglio di più innovativo di un italiano è sbagliatissimo come concetto poi se sta un bando di un estero non è che a tutti i costi non lo deve essere però cerchiamo di essere meno esterofili come se gli illuminati dovessero venire da fuori perché ricordiamoci quando parliamo della fuga all'estero che in realtà all'estero le persone quelle che sono tra virgolette vengono dall'Italia per cui cerchiamo di ritenere qua in tutti i modi queste persone siamo ad una domanda di Marco Lambertini anche qui ci sarebbe un nome che da dire ma appunto tempo che non lo dirà quale orientamento per scegliere un buon assessore alla cultura si sente parlare di nomi prestigiosi ma prestigiosi in che senso? in passato abbiamo avuto diverse schumature quali l'assessore manager l'assessore impresario l'assessore palinsesto pensa di privilegiare la capacità di proporre e scegliere in autonomia o quella di ascoltare e coordinare io aggiungerei anche ha già un nome per l'assessore che non ha la cultura ma appunto tempo non mi niente non lo dico ma fondamentale come assessore per la cultura come assessore in generale per me deve essere una persona che sappia ascoltare il territorio ma poi sappia prendere delle decisioni perché è fondamentale andare in giro ascoltare tutti non calare nessuna cosa dall'alto per te stesso e questo è stato un errore in questa amministrazione che anche quando ha fatto delle cose che magari potrebbero essere condivisibili le ha fatto come dei dictat domani ti chiudo la strada di sotto domani succede questo per cui anche difficile da capire per un cittadino o comunque in poste così difficile da digerire per chiunque per cui bisogna ascoltare tutti soprattutto perché le persone ti possono dare anche delle realtà specifiche tantissime informazioni nel programma che abbiamo scritto che ora inizieremo a portare in giro io dappertutto ho chiesto alle persone direttamente interessate mi date una mano sul commercio ovviamente vado da qualcuno che il commercio lo vive tutti i giorni perché io posso avere delle idee poi molte volte sentendo chi vive tutti i giorni quelle cose ti dice qualcosa che ti dice a cavolo banale non ci avevo pensato a questo per cui è indispensabile ascoltare tutti però poi ti amministro deve anche decidere e ogni tanto le decisioni non sono sempre così popolari perché ci può essere una decisione che viene compresa magari a lunga sul momento e non viene capita per cui è fondamentale anche se è una persona che prenda decisioni che chiama Bologna cioè una persona che sappia cos'è Bologna cos'è la Bologna e che la ame tanto che spenda il suo tempo a conoscere quello che non sa perché io da bolognese molte cose le scopro ancora io perché non le so nessuno me la vedete erano nascoste ci sono tantissime piccole realtà che non vengono pubblicizzate in modo adeguato per cui che giri sul territorio di 424 che si spende che voglia migliorare la città questa è la cosa fondamentale per i tanti tecnici quelli ci sono già in comune non ci serve qualcuno che risolva con i soldi spostati da lì a lì quando si scrive nella deriva quello spostamento lì c'è già lo tecnico ci vuole uno che capisca che è più importante mettere lì che lì bene grazie a Lucia Borgonzoni per la sua disponibilità per queste domande sulla cultura e in bocca al lupo grazie a tutti